L'ultimo saldo mi hanno fatto a dicembre. Sono passati molti mesi, da allora ad oggi cosa è accaduto? Niente, stiamo cercando di sopravvivere. Non abbiamo altre alternative sindacate, ormai è solo un bla bla bla. E alla politica siamo andati a sentire i politici e loro non hanno risposta per noi. L'indotto dello stabilimento Eni di Gela lancia l'ennesima richiesta di aiuto a tutti. La situazione si è fatta realmente preoccupante. Fiumi di parole, ma nel concreto, dicono gli operai, accade nulla. E non sanno più a che santo votarsi. Hanno famiglie da mantenere e mutui da pagare. Vogliono ricominciare a lavorare da subito. In questo territorio, oltre alle 32 milioni di euro di compensazioni e alle 18 milioni di euro di royalties, che sarebbero 50 milioni di euro, ci sarebbe tantissimo lavoro per tanta gente disoccupata. E appunto lancio questo messaggio per far sapere a tantissime persone che sicuramente ad oggi non sanno di questa situazione, perché tanti comuni sono in difficoltà e hanno dei problemi economici, ma il comune di Gela, grazie alla raffineria e grazie a questi soldi della compensazione, non avrebbe questi problemi. Per cui io direi alla gente di riunirci per cercare di protestare, di manifestare, per andare a recriminare i nostri diritti lavorativi. Leni doveva sapere che essendo Leni a Gela l'unica alternativa per tutto il territorio, da un giorno all'altro non poteva fare, prima creava le alternative e poi per la riconversione. E anche perché, l'ultima cosa, secondo me è ancora un blef, perché secondo me questi signori stanno aspettando la sentenza di fine giugno. Per cui è inutile che i lavori devono partire ad aprile, a maggio, adesso a giugno, però secondo la mia ignoranza e voglio fare l'ignorante, questi aspettano la sentenza del Tribunale di Gela. C'è anche una soluzione che potrebbe essere messa in campo dall'amministrazione comunale. Ho visto che ad esempio ad Acireale il comune si è costituito per aiutare i soffri dei debiti che si facevano quando si lavorava, però oggi non si riescono a pagare perché non c'è lavoro. Il comune si è costituito sotto questa forma o per dimezzare, addirittura anche per togliere una buona parte di debiti dove praticamente la gente ha la possibilità anche di poter vivere perché noi siamo tutti padri di famiglia e che l'istituzione ci abbia un pochettino, non dico abbandonata, però sembra che vogliono lasciar morire piano piano questa realtà, ma non si può accettare questo. Io credo che i cittadini gelesi devono far venire fuori quello che è l'orgoglio perché una volta si diceva l'orgoglio di essere gelesi, ma oggi ancora di più perché oggi si deve combattere e solo stando insieme possiamo arrivare a ottenere un risultato positivo.